Hamburgo! Allo, come va? Il Hamburgo Alstersee è tutto in ordine Non mi ricordo le mie esperienze in Alstersee con bicicletta nel winter nel spring, nel autumn fantastico mi piace il Hamburgo una grande tradizione e ricordo la famosa becchera nel centro il piccolo plato salmone, fresco buon caffè buoni persone sono buoni clean è bello e il teatro opera concerto pubblico ecco mi ricordo con grande piacere il Hamburgo è un bellissimo città verde ed è bello per il bicicletta per il sport è fantastico una città una città credo la migliore città in Germania è incredibile per me è possibile vivere in Hamburgo immediatamente oh sì mi piace le persone anche buoni 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 città tradizione cultura nessun problema ricordo dopo me grosse concerto ricordo dopo me saturday gioca Vladimir Orovic wow per me è una grande emozione dopo la mia concerto nella stessa casa Vladimir sempre gioca oh è vero non è vero per me grande onore incredibile il grande filosofo con il clavir è è niente Vladimir è niente pianista è un filosofo una filosofia con la mano il cervello trasmittura la mano la filosofia e gioca non è musica è cosmo è è grande grande emozione incredibile incredibile credo l'emozione con Vladimir non è possibile con un altro è incredibile è molto facile nel vostro lavoro molto semplice perché quando capisci la semplicità che viene stesso il sole l'uomo non è tutto quando capisci la tecnica hai un problema l'interpretazione analizzare la tecnica non è l'interpretazione quando desaparece la tecnica è la pura interpretazione la pura l'uomo la pura verità è la mia opinione l'uomo